C'è la notte di aereo e le storie tese, il Cortona Mix Festival è in pieno svolgimento, tanti gli appuntamenti e tanti big che hanno passeggiato per strade e piazze di Cortona, ma stanotte è una vera e propria notte di festa perché la popolazione sarà invitata ad assistere a un vero e proprio spettacolo all'interno di Piazza Signorelli. Ecco che cosa è successo. Buonasera a tutti. Mi sembrate un po' troppo contenti. Buonasera a tutti. 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 Buonasera a tutti.